esimi bentornati qui nel salotto dell'asciugona siamo arrivati pensate all'ultimo episodio di questa terza stagione del podcast incredibile come vuole il tempo quando ci si asciuga devo dirvi ancora una volta lo ripeto tutti gli anni per una cosa che sento veramente che è stato veramente bello di nuovo condividere le mie esperienze insieme a voi confrontarci su un tema che tanto divide ma molto spesso ci accomuna anche tantissimo devo dire che è veramente sempre un grande arricchimento per me ma adesso basta con queste frasi paraculo e arriviamo a noi abbiamo parlato di tutto in tre stagioni ma veramente di tutto ma vogliamo per una volta guardarci in faccia e parlare dell'unico vero argomento di cui avremmo estremo bisogno di parlare l'argomento più oggetto di tabù che più viene taciuto mascherato falsato condito ebbene sì questa ultima puntata della terza stagione dell'asciugona finirà con un argomento scottante piccante vibrante stuzzicante penetrante il sesso il sesso quel che ne rimane insomma dopo una gravidanza allora innanzitutto per scrivere questo episodio ho fatto un piccolo sondaggio presso le mie amiche o conoscenti che hanno vissuto gravidanza e maternità per chiedergli quale fosse il loro ricordo sul sesso legato a quel momento ok mi hanno risposto così cosa va da retrosatana che schifo ha il sesso mi si è richiusa piuttosto che fare sesso mi sarei fatta incatenare una sedia elettrica avvolgere da un filo spinato e mi sarei fatto interrogare per dieci ore di fila dal mio ex prof di chimica no questo l'ho detta io scusate ma perché perché tutta questa reticenza sull'atto dell'amore perché siamo stronze no perché ci sono alcune piccolissime componenti di tipo emotivo fisico e fisiologico che fanno sì che non sia più il nostro primo pensiero la mattina e l'ultimo la sera ma i papà questo lo capiscono benissimo è infatti si registra un misteriosissimo incremento della durata della loro defecata in bagno però agli occhi di chi ce lo chiede sempre per la stranissima legge del non si sa perché però devo apparire sempre perfetta raccontiamo inventandocele di sana pianta di grandi ed epiche cavalcate su stalloni imbizzarriti di questa fame di sesso che ci pervade dalla mattina alla sera a qualsiasi ora del giorno e della notte perché solo se fai sesso sei ok ma sapete che c'è anche non fare sesso è ok ci sono momenti in cui si è più propensi e momenti in cui vorresti cucirtela con agua e filo ma ma visto che non ho alcunissimo titolo per parlare in modo appropriato e scientifico di determinate cose ho pensato di chiamare una persona un ospite ben più qualificato di me e quindi è con immensa emozione che chiamo qui per la prima volta all'asciugona il virologo burioni no non è vero e leonora sciascia mia amica e la mia ostetrica del cuore ed eccolo qua ciao ele ma che bello averti qua dovete sapere che ele è la persona che mi ha massaggiato di più le tecce nella mia vita più di mio marito eh sei orgogliosa di questo primato molto orgogliosa bene innanzitutto grazie per aver accettato l'invito qui all'asciugona come se tu non avessi niente da fare nelle tue giornate di ostetica visite al domicilio accompagno le donne durante tutte le varie fasi in realtà del ciclo vitale femminile quindi in realtà anche fino alla menopausa e oltre volendo ma io ti ho chiamata qua perché dobbiamo parlare di sesso e voglio sapere tu in quanto ostetica ti dedichi anche a prestare consulenze di sessualità alle coppie di neogenitori perché c'è bisogno di questo servizio cioè perché i genitori ti chiamano disperati nel cuore della notte perché innanzitutto la nascita è un evento sessuale e volenti o nolenti prima o poi ce ne si rende conto e se ne esce abbastanza travolti sconvolti da questa esperienza e di queste cose purtroppo se ne parla sempre molto poco come ben sappiamo perché si dice vabbè quelle cose lì alla fine le sanno fare tutti no cioè una persona sa fare sesso sa partorire è istinto sì e invece ci sono tante cose di cui bisogna parlare le disperazioni che raccolgo sono veramente le più disparate dal non riuscire più a cenare insieme che anche questo è sessualità al avere dolore durante la penetrazione per esempio ma di fatto la ripresa della sessualità dipende dalle caratteristiche che quella sessualità lì aveva già da prima della gravidanza stessa quindi dall'intimità dalla relazione che quella coppia aveva data sempre che ha avuto ha costruito esattamente esattamente perché ci sentiamo sempre in dovere noi donne o in generale no di dimostrare di essere super sempre attivi sessualmente sempre prestanti perché si è imbarazzo nel confessare che a volte ma penso per tantissimi motivi in primis perché la performance mi viene da dire al centro della nostra esistenza oggi e quindi bisogna essere eccellente in tutto dal sesso all'essere genitori la donna ha piacere durante la gravidanza prova diverse forme di piacere il suo corpo cambia forma certo il suo sistema neuroendocrino si potenzia e ecco di queste cose di nuovo se ne parla veramente poco perché non c'è una comunicazione vera tra donne libera sincera ecco importante ricordare che è una donna desidera avere rapporti sessuali in gravidanza e oppure non desidera avere rapporti sessuali in gravidanza è normale ma come normale nel resto della vita non mi viene da dire nel senso che non bisogna avere sempre voglia di fare sesso e oppure m'assurbarsi e tutto il resto ok si può proprio stare tranquilli ma senti e c'è dell'imbarazzo nella coppia quando vengono affrontati certi temi imbarazzo ce n'è ce n'è sempre abbastanza ma di nuovo anche qui forse perché è la prima volta in cui una coppia veramente inizia a confrontarsi sul tema della sessualità esattamente si cioè che ci si inizia a dire ma senti con la posizione di ti piace se ci tocchiamo qual è lo scoglio che ritieni più insormontabile più difficile da superare fra una coppia insomma che ha avuto un bambino da poco ma sul piano più teorico la sessualità non è solo rapporto sessuale penetrativo ok è molto altro e questo ecco dobbiamo sicuramente così essere un po' più elastici diciamo diciamo così esattamente e poi sicuramente sapere che il bambino se vive in un ambiente in cui ossitocina endorfine circolano attorno a lui che è famoso cocktail dell'amore è sta bene sereno dorme allora e arriviamo al mio momento preferito ovviamente senza fare nomi ogni riferimento puramente casuale ma ti prego raccontami qualche aneddoto divertente che ti è capitato di sentire con qualche neo genitore beh una mamma mi raccontava che non erano riuscite ad andare a comprare il lubrificante e quindi hanno utilizzato dell'olio che era rimasto in cucina misto ad acqua ma è stato un po' un olio di riva è stato un po' un disastro nooo vabbè può capitare seguite questa mamma per altre ricerche come è da dire invece ecco ci sono quest'altra mamma e quest'altro papà vabbè sto accompagnando questa mamma appunto in un percorso di riabilitazione del pavimento pelvico e stiamo utilizzando ovuli, creme, cremine e coni vaginali che deve poi anche un po' utilizzare lei da sola la sera prima di andare a letto e il marito non ne può più e mi dice regolarmente senti ha detto sua moglie guarda mettiamo un semaforo fuori dalla porta di camera se è verde capisco che i tuoi amici lì quelle cose che usi non c'è traccia di cono vaginale e io ho il via libera esattamente fantastico un tema che che in realtà c'è una cosa che succede molto spesso e che mette anche un po' in difficoltà è il momento in cui all'apice dell'orgasmo scoppio di ossitocina donna super eccitata tutto veramente wow finalmente ce l'abbiamo fatta latte dal seno che sgorga e quindi lenzuola bagnate eh ragazzi è così buono ecco e quindi il marito le volte successive ha detto senti organizziamoci perché se ci succede ci penso io poppata di latte no no cioè lo beveva lui vabbè ragazzi no e le lenzuola vanno a salvatelo lo consiglio anche io ogni tanto sappiatelo volevo farti un'altra domanda legata al pavimento pelvico ma gli uomini sanno che cos'è il pavimento pelvico? pensano che sia un tipo di parquet? ecco sì penso che quella è l'informazione di base penso proprio di sì e infatti penso che aspettino di sapere se il piastrellista l'ha posato bene invece di chiedere come va laggiù esatto posso essere perché c'è qualcosa che possono fare? ma magari no anche solo guardare aiutare toccare massaggiare assolutamente sì un sacco di cose proprio questo tipo di comunicazione e contatto e massaggio permette sicuramente una ripresa più serena anche in questo senso quindi no diminuisce l'imbarazzo nella coppia ho una domanda vai scusa esiste una donna sul pianeta che faccia gli esercizi per il pavimento pelvico che consigliano al corso per parto? tu ne hai mai conosciuta una? sì in realtà sì mi stai facendo passare per l'unica che non l'ha fatto? no no ce ne sono tante Daniela l'hai fatto? certo veramente? sì cioè ti mettevi lì col pollice non è vero sono senza pagianate ci sono donne basta chiudo in me stessa Ele non pensavo fosse possibile ma mi hai asciugata tu? cioè abbiamo parlato io credo 47 minuti sarà impossibile ricavarne un video breve ma ce la faremo ti chiedo in chiusura le domande sarebbero tantissime a me se c'è qualcosa che ci tieni a raccontare alle mamme asciugone e papà asciugoni che ci seguono se c'è una tua un po' morale della favola qualcosa che ti va di dirgli uno dei segreti a cui noi ostetriche teniamo di più è che la vulva e la vagina si trasformano si trasformano nella sessualità il pene va in erezione e la vagina diventa accogliente nella sessualità la vagina fa lo stesso tipo di trasformazione nel momento della nascita chiaramente arrivando a 10 cm diametro della testolina più o meno di tutti noi certo che queste trasformazioni sono possibili se l'ambiente è intimo piacevole per quella donna e se c'è desiderio se no di che sessualità è che rapporto sessuale è grazie Ele sono state dette un sacco di cose io credo che un po' da tutto questo discorso si vinca il fatto che sessualità vuol dire tante cose e che non c'è una sessualità giusta corretta standard a cui puntare prima o dopo il parto io credo che ogni coppia trovi la sua e che va sempre bene così assolutamente sì ciao dalla Shuguna ci vediamo alla prossima stagione da Eleonora Sciascia contattatela su Instagram è bravissima e dal signor Clitoride ovviamente l'appuntamento è all'anno prossimo chissà quando ciao